Ben trovati e bentrovate da Andrea Cartotto. Vi confesso che desideravo da qualche tempo realizzare questo videocorso su quella che mi sento di definire l'applicazione web del momento, di tendenza. E parlo di ChatGPT, ripeto Genova, Palermo, Torino, acronimo che sta per Generative Pre-Trained Transformer. Questa applicazione web è ora di utilizzo pubblico, utilizzo gratuito, richiede la registrazione, sign up con un qualsiasi account di posta elettronica, un indirizzo di posta elettronica valido, funzionante. Questa è l'interfaccia, cioè la pagina che vi accoglierà una volta entrati, sito di riferimento, chat.openai.com. sbarra chat. Ma come accade nei programmi di cucina, vi mostro che in effetti questa risorsa fa parte di un progetto più ampio, il cui nome è Open AI, Open Artificial Intelligence, di cui ho già parlato qui sul mio canale e vi invito a cercare il mio videocorso sull'applicazione Ve La Pronuncio, così come si scrive, DALLE DUE. Un'applicazione strepitosa perché io scrivo una frase, anche dettagliata in italiano o in inglese, e il sistema genera una sorta di quadro digitale ed è un po' come dare forma ai sogni, come dare forma ad un testo che voglio ecco vedere raffigurato. Interessante strumento compensativo, secondo me è anche uno strumento di sostegno alla disabilità. Ebbene, ChatGPT potrà mostrarvi questa schermata perché ha un picco davvero di utilizzo importante in questo periodo, ma non disperate. Ricaricate di tanto in tanto questa pagina con la classica freccina del browser in alto, vedete, click, e appariranno i pulsanti Sign Up, registrazione, la prima volta e Log In, la seconda volta, cioè per effettuare dal secondo accesso. Io ho tenuto qui sul mio browser Google Chrome aperta la finestra di ChatGPT, se vi troverete la schermata con lo sfondo bianco, basterà cliccare su Dark Mode nella colonna di sinistra ed ecco qui, avrete uno sfondo scuro più riposante. Semplicissimo l'utilizzo. Barra di digitazione è un po' come mandare un messaggino con un'applicazione di messaggistica istantanea alla stregua di Whatsapp o Telegram, invio il messaggio, con invio sulla tastiera, se da computer, ho un click sul triangolo perché io posso usare qualsiasi dispositivo, scrivo e l'intelligenza artificiale dialoga con me. Ad esempio, vado a digitare cosa è l'intelligenza artificiale. Guardate, correggo anche per bene l'ortografia pur se non sarebbe indispensabile. Ed ecco qui la spiegazione. Fantastico perché al netto del fatto che non dobbiamo considerare ChatGPT sostitutiva della scrittura o della composizione di un testo da parte dell'uomo ci mostra però la potenza di un sistema artificiale opportunamente addestrato ed in grado di imparare e quindi io vedo in ChatGPT un ausilio per la documentazione, l'approfondimento, non per la sostituzione o produzione di un testo, ad esempio per così frodare o approfittarsi di questa tecnologia. E ve lo racconto perché questo videocorso è dedicato a tutti i colleghi e alle colleghe docenti ma anche a voi ragazzi e ragazze che lo guarderete ed è affascinante che proviate questo strumento proprio per capirne la potenzialità. Se vado ancora avanti a digitare io chiedo a ChatGPT e potrei anche non porre il tema come domanda ma proprio scrivere parlami del futuro di internet proviamo insieme live parlami del futuro di internet qualche secondo e guardate il futuro di internet è difficile da prevedere con certezza poiché dipende da molte variabili in continua evoluzione virgola come lo sviluppo tecnologico virgola quindi abbiamo dei contenuti pur sempre da leggere e controllare sintatticamente e lessicalmente corretti ecco perché vi ho parlato di spunto di riflessione analisi e approfondimento insomma e intanto vedete l'intelligenza artificiale continua a rispondere a dialogare con me e con noi sicuramente è uno strumento da porre sotto una lente cioè da attenzionare da approfondire e da conoscere quel che sarà nel futuro lo scopriremo insieme per il momento il mio invito è a non trascurare ecco a cominciare a cogliere questo tipo di opportunità e inserirla in maniera graduale amichevole nel nostro dialogo con gli allievi nel contesto scolastico ma anche con le persone che sono accanto a noi per far capire il potenziale della tecnologia laddove possa divenire uno strumento per migliorare alleggerire o arricchire la nostra vita quotidiana guardate ancora stiamo procedendo perché ovviamente nel dialogo l'intelligenza artificiale considera anche alcune variabili formula ipotesi e via discorrendo dunque un saluto a tutti e a tutte voi da Andrea Cartotto e vi do sin d'ora appuntamento al prossimo videocorso con l'invito a condividere perché no con i vostri allievi con i colleghi con i vostri amici questo videocorso in cui ho cercato e spero di esserci riuscito di chiarire un pochino come funzioni questa tecnologia ciao